La legge Bossi-Fini, già da tempo tradita dal suo secondo firmatario, è sotto minaccia diretta. I fronti da cui arrivano le cannonate sono due, uno interno e uno esterno, con complicità dentro i confini ugualmente pericolosi. L'Unione Europea ha prodotto una direttiva nel 2008 che prevede misure precise chiare e incondizionate ed avendo effetti giuridici favorevoli per lo Stato inadempiente e immediatamente applicabile in Italia dal 25 dicembre 2010 in quanto il 24 dicembre è scaduto il termine per la relativa attuazione da parte del legislatore. La direttiva comunitaria faleva sul diritto alla libertà personale degli immigrati irregolari per neutralizzare il reato di clandestinità introdotto dal pacchetto sicurezza del 2009 ponendo una serie di paletti nelle misure coercitive e riducendo ad estrema razio la detenzione degli stranieri irregolari presso centri di permanenza temporanea o istituti penitenziari. Insomma, dopo il provvedimento amministrativo di espulsione, nonostante l'inottemperanza, l'innovativa sanzione penale rimane comunque piuttosto aleatoria. Alcuni tribunali italiani, dove peraltro la legge Bossi-Fini ha sempre incontrato parecchi ostacoli, hanno già preso la palla al balzo per non applicare affatto il reato di clandestinità. I casi più evidenti sono quelli di Torino e Firenze. L'altro bombardamento è anch'esso datato dicembre scorso ed è stato opera della Corte Costituzionale con una sentenza inquietante. La consulta, chiamata a pronunciarsi dal Tribunale di Voghera, ha stabilito che non è punibile lo straniero che in estremo stato di indigenza o comunque per giustificato motivo non ha reiteratamente ottemperato all'ordine di allontanamento del questore, continuando a rimanere illegalmente in Italia. Un altro colpo terribile al pacchetto sicurezza, attacchi diretti alle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina a cui la Lega Nord ha subito risposto annunciando la presentazione di un emendamento ad hoc nei primi mesi di questo 2011. Lo aveva detto chiaramente il capogruppo del carroccio al Senato, Federico Bricolo. Lo ribadisce oggi il sottosegretario all'interno, Michelino Davico. Quest'ultimo afferma che la conversione del secondo decreto sicurezza che in questi giorni è in discussione al Senato può essere l'occasione per affrontare subito la questione e trovare il più rapidamente possibile una soluzione. Questo per quanto riguarda la direttiva UE, mentre altre contromisure sono allo studio per neutralizzare il pretesto dell'indigenza per il blocco delle espulsioni.